Chi viaggia lungo la nuova strada Sassari-Oschiri-Olbia, dopo aver superato la basilica di Santa Trinità di Saccargia, prima del crocevia per Proaghe, incontra la basilica di San Michele di Salvenero, curiosamente indicata nei cartelli indicatori come San Salverino. Un tempo parte di un maestoso complesso monastico, oggi, assieme ad altre chiese coeve, impreziosisce il paesaggio vicino a Sassari, nel nord-ovest della Sardegna. Il suo imponente profilo spicca in una vallata dove quasi mille anni fa prosperavano chiese e monasteri, di cui restano ormai solo ruderi, custodendo storie, misteri e leggende popolari. La chiesa di San Michele di Salvenero si trova nelle campagne di Proaghe, a tre chilometri dal centro abitato, in un'area dove, in epoca giudicale, esisteva il villaggio di Salvennor, abbandonato nel 1700. La costruzione del santuario risale alla fine del mille, per iniziativa del giudice di Torres, Mariano I, risulta consegnata ai monaci dell'abbazia di Vallombrosa, intorno al 1139. Grazie al potente ordine monastico, il complesso prosperò, possedeva terreni e godeva di importanti privilegi. Il successivo dominio aragonese costrinse però i monaci ad abbandonare chiesa e monastero, che risultano già in rovina nel corso del 1500, mentre il santuario fu comunque restaurato a più riprese. Il monastero e le chiese del circondario di Sant'Antimo, di San Sebastiano e di San Nicola furono abbandonate alla decadenza, punteggiando di ruderi sparsi il paesaggio rurale. Ciò che rimaneva del monastero fu poi demolito nel 1800 per realizzare infrastrutture stradali.